Desert or dessert? Qual è la differenza? Ciao, sono Monica di Imparaleinglesecomonica.com e nel breve video di oggi andrò a svelarti la differenza tra queste due parole. Desert vuol dire deserto, quindi in inglese potremmo definirlo come dry area. Un esempio di frase che vede questa parola protagonista potrebbe essere They are experiencing an amazing excursion in the desert. Quindi stanno facendo una fantastica escursione nel deserto. Desert invece vuol dire dolce, quindi potremmo definirlo sweet course, quindi un piatto, una portata dolce. E un esempio di frase dove questa parola è protagonista potrebbe essere Desserts at that restaurant are very tasty. Quindi i dolci in quel risonante sono veramente gustosi. Bene, per oggi è tutto, io ti aspetto alla prossima lezione con una nuova coppia di Confusing Words.